Siamo qua a scioperare, in questa fabbrica sono anni che stiamo cercando di accontentare e permettere all'azienda di continuare a produrre qua a pomigliano in quest'area. Solo che ad oggi siamo arrivati proprio alla frutta, non c'è più dialogo con l'azienda e le situazioni che oggi ci hanno portato a questo sciopero è la non sicurezza che viviamo nella fabbrica. Partiamo dalle basi proprio primarie, noi abbiamo circa 600 RCE per questa azienda e vengono privati ogni giorno della mezza perché abbiamo una scala mobile che è bloccata da anni. In più nei reparti abbiamo una polizia che fa veramente schifo. Noi ogni volta che cerchiamo di avere un dialogo con l'azienda, l'azienda ci bypassa e va avanti unilateralmente. Tutto questo ci ha portato ad oggi a questo sciopero e credo che per come abbiamo avuto notizie è riuscito veramente bene.